musica 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 la cosa più importante è che i trasformatori musica la matricula e la targhetta un container di eseguimento sonoro attuare tutto e poi attaccare tutto l'impossibile ma anche i amici dentro il casco oggi il generatore facciamo tutti i amici a 8 ora, 8 min 8 lavatrici che vanno 8 lavastovigli che vanno musica 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 questo qua è la mattina più povero ai 4 della mattina musica lei sia timido musica ma letiv su rap si ma metri al Sì, ho fatto qualche questione Ma le sei in porta a lui, che ero toccato in una fumegata dentro in cucina No, è tipo... 45-45 metri a casa mia No, metti... Bisogna che si metti d'accordo con i vicini Marchino, non fai l'inglesino di merda, sennò ti vengono la dose di sfondo Metti Polo Sì! No, sei un altro bastardo Sì, affica, Polo Sarebbe un V8 E' una 2 charge 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 Con scarico in acciaio E' una 2 charge Con il motore nuovo Marco, ora riesco a risare Oh! Ma l'hai detto No, è da più E' la famiglia ego E' la famiglia aree Gli ho detto Ho detto come notifica dei messaggi ancora fate e hai un messaggio no orco vuoi ripetere? no no un secondo si fate è che tu? questo è che tu? come che sono scoperto in modo che ti stavo con tutti i bloccaggi e roba no l'elicottero è uno è di solo uno direi un caso il sesso è fino a scorzaare Marco è giù il ferosegno io povero cazzo città hai visto un altro rimorchi si, l'ho fatto l'altra volta l'ho fatto tipo 5 rimorchi stando fermi ecco, anche il boy in merito che cincurano le bestemme delle bestemme vai avanti sono fermo io che si rompi le balle guarda Matti pianta la supa a para d'attrizia aaaaaaah è morto guarda guarda questo il sussur di uomo guarda guarda Marco nella testata di a canne quasi di a mato nella testata il testata il te a cosa non lo so con un motore e cosa non lo so è morto io quando devo spiegare che è una cosa perché c'è figlia di puttana e c'è grande anche i tuoi amici oh perchè non c'ha che vacca orsi di MPP che vacca maledetto vai vai tatra vabbè 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 hai pensato più sopra o più sopra vabbè 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 marchino ti sto osservando che campi di merda veramente io che bisogna riattaccare anche la quarta eh sì vittoria sai perché opla scavacchiamo anche Marco e basta stiamo su un cazzo ah vabbè dai ma ci mettiamo un ruolo guarda vuoi fare un'alternativa? ehm no è perchè avevo bisogno interna la cabina per passare sotto gli alberi ehm ehm è che maribullo anche via no io di sopra l'altro via quel man bene regno sopra ah no no più velocità serve no ok perfetto mancavi sto squino intanto Enrico brucia tutti i limo ah 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 guarda ed è portato anche di intanto ahahah se vuole e' imparato il trucco marco ttana guarda guarda marco per il marco ma che cazzo fai tu e' senta io e' la c***o ti tagli la strada e' va 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 che froggio che designa ah va che c'è mo' di perdere tracciato a codo eh no patine va guarda come si dite di marchio guarda come si dite di marchio è una roba strategica guarda quanti c***o ma perchè no ma brinca ma perchè ha brincato quello doveva brincare me ahahah 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 proprio quello che non dovevi fare perchè adesso mi ma che bastardi 81% la tenza del marco e l'oblaggio differenziali aveva davanti il minuto che non si mi carica qua oh c***o ma ti c***o dai c***o ma guarda che che camion che camion vedo se hai camion non c'è tempo eh ma ti fa un c***o guarda qua ma che c***o fai un attimo a casa e torna subito eh comi' il tempo mano no il chino abba stato con il chino ha temato un po' la via No, penso che vengono casinati su... Com'è che altra volta, ieri c'erava buono fa? Salutiamo gli amici veneziani, ciao! Che c***o che ho fatto? Amici, amici... Cobra, c***o fai! Devo girarmi! Vabbè qua tutti amici, tutti veneti, tutti amici. Guarda che rompi i coglioni. Tipo... A posto, avevamo un altro... Lei sta su, muaaaaa... Lei sta su, muaaaaa... Lei sta su, muaaaaa... Lei sta su, muaaaaa... Distrutto... No, aspetta, fai... No, non ti muovere, perdonatemi. Eh, sì, appunto, non ti muovere, non mi muovo più, però io da qua. Ah, pazienza. Sfruttare... Madonna! Ma perché hai tutti questi albri qua, in mezzo? C***o! Guarda il secondo è guidare, basta, venuti e... Ah, ancora te! Ciao! No! Ahahahah... Sono girapisti a volta! Ahahahah... Dai, dai, dai! Riempi, riempi! Aspetta che fai qui... I lampeyanti! No, i cosi... I scantisi... Giro, vai! Perché che tu... Ti ho dritto a parte un male? No, ha la cascania di nuovo! Eh, questo... Cobrino è più corella. E mettiamo... Comunizia, sì. Eh, vede... Comunizia, sì. No! Cobrino, non fare l'infame! Ah, quanti comunisti qua! Vai, Cobrino! Ho preso! Ho preso! Cabena... Funghi! Ah, perché pensavo di passarsi per qua per scampare da Yuri! Ahahahah... Eh... Tanta, tanta paura! No! Cobrino, sei una... Sei un... Battone da combattimento! Ma sono un esperto boscaiolo... Guarda! Eh! Esperto boscaiolo... Certo, sei impiantato! E su tre alberi, anche! Ah, ho smecato... E tu perché il chilo non va bene? E tu... Mi dica ai bloccaggi? Edo è assente! 42... 49% di usura! Eeeh... 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 No perché non fai il favore? Eeeh... 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 Bellissimo eh... Kiro è qua e là eh... Capota! Eeeh... Ciao Marco! Adio... E' su... E' su... E' su... E' su... E' su... E' su... Marco! Ma perché questo è stato... No! Eheheheh... Si, dopo... Guarda, stasora della merda... Flasho… Ahdeathически. Dovente il cominio! Ehi, al casino, ora... Ahahah... Cosa va la giro?! Giro, giro il tonno, acro , va... Spasso... E' una diega il ca... E' il secondo te rito... Aha Terre ha fatto! Cosa fai?! Ehm, ahaha... E' che vaga? Ahhahi Noem verdade... Eheheheh, da qua c'è un merda l'epoca Maledetto, Ocio, Ocio, eccola Bene, l'altro angolo ha fatto un po' No, Peta fa al bordo No, no, Marco sta banalizzando il campo, ma parco è strissata Toh No, sei, non è Ah, non c'è che poterlo mai sti in mezzo qua Quasi What is the peppa, the peppa is on the table? Marco, probabile in arrivo, se non cade in uno tussato Ah, se non si capota? Oh, scusa Eheheheh, vado a abbrassare la trincia Marchino! Vieni qua, Marchino! Ciao tutti ragazzi! Madonna, la girata d'acchio E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci E' la raga!